Adesso è il nostro momento, facciamo vedere che così è l'Antonino, è il momento della PMS, Maika Torino! Allora vada a conto che si è compita sinistri, la pubblica del primo Romaggio e Fabrizio de Canella Col numero 6 Stefano Alcimendi con il numero 9 il capitano Marco e Marcellini con il numero 11 Lorenzo Paldasso con il numero 12 Daniele Sfatti con il numero 13 Valerio Avaldo con il numero 18 Cuba Wojcikowski con il numero 22 Rona Steele con il numero 25 Tim Bowers con il numero 31 Lorenzo Cercati con il numero 32 Andrea Bianchi questa è Polino! grazie! 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 grazie!